Alcuni ricercatori del Politecnico di Zurigo hanno sviluppato un metodo altamente sostenibile per recuperare oro dai rifiuti elettronici, sfruttando un sottoprodotto della produzione del formaggio. Questa innovazione utilizza una spugna di fibrille proteiche ottenuta dal siero del latte, un residuo dell'industria alimentare per estrarre l'oro in maniera efficiente a basso costo. Contrariamente ai metodi tradizionali di recupero dei metalli preziosi che richiedono grandi quantità di energia e l'uso di sostanze chimiche nocive, il nuovo approccio del Politecnico di Zurigo si rivela non solo più ecocompatibile, ma anche economicamente vantaggioso. Infatti i costi di produzione energetici sono 50 volte inferiori rispetto al valore dell'oro recuperabile. Questa scoperta non solo promette di rivoluzionare il riciclo dei rifiuti elettronici, trasformandoli in una vera miniera d'oro, ma apre anche la strada alla valorizzazione di altri rifiuti industriali e sottoprodotti ricchi di proteine dell'industria alimentare.